Grazie. Io direi che possiamo iniziare. Ecco, buonasera e benvenuti, mi presento, sono Sara Alemanno e mi occupo del marketing della comunicazione di Air Light e grazie di essere qui questa sera anche a nome di tutto il team di Air Light. Allora, prima di lasciare la parola all'ingegner Cianci, volevo giusto introdurvi questa serata e dirvi il perché siamo qui in questo contesto, proprio in occasione della fiera d'arte dedicata alla fotografia più importante d'Italia. Noi siamo per il secondo anno sponsor e ne siamo veramente orgogliosi del Manifesto dell'Abitare. Il Manifesto dell'Abitare è un progetto di sostenibilità ambientale e sociale che coinvolge circa 20 studi di architettura, ma non solo, anche università e aziende e ha come scopo quello di promuovere una progettazione architettonica che sia sempre più consapevole, anche grazie proprio alla creazione di un network all'interno del quale i partner possono comunque condividere dei valori e creare delle collaborazioni. E quest'anno proprio il Manifesto dell'Abitare è sponsor, sustainability sponsor, della mia FotoFair. Ecco perché qui ci troviamo proprio stasera in questo contesto di arte e di bellezza, devo dire. Però vabbè, non vi aggiungo altro perché poi l'ingegner Cianci vi racconterà più nel dettaglio, però ci tenevo veramente questa sera a ringraziare le menti, le autrici, proprio le organizzatrici di questo progetto che sono Alessia Crivelli e Monica Cuzzaniti, grazie davvero. Posso parlare, penso a nomi di entrambe le parti, siamo convinti che sia proprio un inizio di un lungo percorso insieme. Grazie davvero anche per averci dato l'opportunità di organizzare questo momento insieme questa sera. Volevo solo, dopo la presentazione, volevamo poi invitarvi nella lounge dedicata appunto al Manifesto dell'Abitare, dove potrete anche visionare i progetti degli architetti. Quest'anno il tema è l'acqua e perché no, anche respirare un po' di aria pulita visto che la lounge è dipinta con la pittura air light, ovviamente di blu visto il tema. Adesso lascio la parola all'ingegner Cianci e buona continuazione, grazie. Grazie, mi unisco ai ringraziamenti. Per noi è un momento di grande orgoglio essere presenti in una manifestazione come questa. Noi realizziamo tecnologia, ma riteniamo che l'arte sia il vettore migliore per promuovere l'innovazione e con essa le tecnologie. Non solo in un contesto come quello promosso dal Manifesto dell'Abitare, in cui l'architettura è centrata sull'uomo. Non un'architettura autocelebrativa, per usare le parole del dottor Luraschi, ma un'architettura che unendo le persone, unendo le tecnologie, unendo il pensiero, si concentri sull'uomo per realizzare ciò che di meglio si può ottenere in termini di, per quello che è la nostra cosa, il nostro cuore, il contesto di benessere abitativo. Una piccola parola su cosa facciamo per chi non ci conosce. Noi sviluppiamo una tecnologia di purificazione dell'aria che si applica come una pittura. È un semiconduttore che reagisce alla luce, che è all'interno di una pittura che si applica sulle pareti. Quando l'aria inquinata tocca le pareti, l'inquinamento presente nell'aria viene eliminato per una trasformazione superficiale che porta l'aria ad essere pulita come in un bosco. È lo stesso meccanismo dell'aria serena dopo la tempesta. Così come acqua e ossigeno insieme formano ioni negativi, la nostra pittura permette la creazione di ioni negativi e quindi la purificazione dell'aria. Il tema di quest'anno è l'acqua e anche se noi ci occupiamo di purificazione dell'aria, l'acqua è un elemento molto importante anche perché la nostra tecnologia in effetti è fatta di acqua e di luce. La luce che porta l'energia, l'acqua che la trasforma in ioni negativi. E questo elemento di contaminazione tra cose diverse è quello che abbiamo ritrovato all'interno del manifesto e che ci ha permesso di aderire pur essendo qualcosa di molto tecnico, di diverso dalla parte creativa che possiamo trovare nell'opera degli architetti o nell'opera dei designer. Però proprio perché per noi l'innovazione si manifesta anche attraverso l'arte e di fatto realizziamo quello che può essere uno strumento, un vettore di bellezza, abbiamo deciso di aderire al manifesto lo scorso anno e lo stiamo immaginando come un veicolo per permettere una diffusione sempre più ampia della nostra tecnologia sia in chi la deve utilizzare, quindi gli architetti, le committenze, ma anche per creare quella consapevolezza nel pubblico che esistano tecnologie oggi che possono affrontare problemi che si ritengono irrisolvibili anche con qualcosa di semplice. Noi alla fine tecnicamente siamo un acquerello, qualcosa di molto facile, naturale, ma che portando internamente una tecnologia così sofisticata permette di intervenire sul benessere delle persone in modo decisamente rilevante. Il manifesto dell'abitare è stata per noi una scoperta fortunata perché eravamo alla ricerca come azienda di qualcosa che ci permettesse di rappresentarci nei confronti di un pubblico più alto, sia professionale, quindi gli architetti, sia di partnership con aziende e la cosa che ci ha dato la spinta a partecipare è il concetto di contaminazione che per noi è molto importante. Anche in azienda noi siamo molto trasversali, la tecnologia a cuore noi l'abbiamo ad oggi declinata in prodotti architettonici, quindi pitture, ma anche in coating funzionali. Abbiamo lanciato lo scorso mese di marzo una collezione di borse con Stella McCartney dove un nostro coating che è un'emulsione ad acqua viene applicato sulle borse e quindi la borsa è antibatterica, antivirale e di fatto respira. Un piccolo pezzo di borsa toglie l'inquinamento creato da un'automobile in due ore. Quindi comunque è una cosa importante dal punto di vista anche del benessere di chi la possiede. Stiamo lavorando in ambiti più legati ai materiali e al design con la UEFA che organizza quest'anno gli europei di calcio, stiamo lavorando con Volkswagen per creare un coating, un wrap di copertura delle auto che permette di togliere ogni auto l'inquinamento che la macchina stessa produce mentre viene utilizzato. Per cui questo insieme di tecnologie diverse, di ambiti diversi ci porta a volerci confrontare sempre di più in ambiti che permettano proprio questa contaminazione anche perché in questo modo ci arricchiamo delle esperienze e delle idee di tutti anche per migliorare e portare avanti la nostra ricerca. Avrete modo di vedere nei progetti che sono esposti nella lounge pur avendo tutti come tema internazionale di unità, quello dell'acqua, idee e rappresentazioni diverse, anzi alcune davvero innovative proprio nel concetto. Noi riteniamo che questo sia una delle cose più importanti. Anche il manifesto dell'abitare sta crescendo, ci stiamo accorgendo degli enormi sforzi che sta facendo per diventare sempre di più un elemento di attrazione culturale e di promozione dell'innovazione del pensiero nella community degli architetti e la crescita sta portando alle collaborazioni che già avevamo lo scorso anno l'inserimento di nuovi partner e anche l'allargamento delle idee. La cosa più importante che facciamo nel manifesto dell'abitare è mettere insieme le persone affinché conoscendosi possano condividere idee, progetti ed eventualmente avviare collaborazioni. Quindi è anche uno spazio all'interno del quale si crea cultura, non solo scambio. E questo per noi è un elemento molto importante. Dal nostro punto di vista come azienda ci arricchisce perché ci impadroniamo delle problematiche che i diversi player devono affrontare per studiare internamente magari come supportarli utilizzando la nostra competenza tecnologica. Dall'altra parte permette a chi deve risolvere i problemi dell'architettura, del design, dell'abitare, magari di ragionare anche su soluzioni innovative che a un primo pensiero non entrano nel novero. Effettivamente immaginare una pittura che al di là dell'aspetto estetico che è quello per cui le pitture oggi sono conosciute possa avere un elemento di migliorare la qualità della vita delle persone all'interno degli spazi, beh, voi immaginate come vivere all'interno di un purificatore d'aria. Per usare le parole di Gino Paoli, questa stanza non ha più pareti ma ha alberi, alberi infiniti quando sei qui con me, che è in effetti quello che noi riusciamo a fare. Un metro quadrato di air light ha lo stesso effetto di purificazione di un metro quadrato di alberi di alto fusto, quindi di fatto andiamo a dormire o a lavorare o a passare il nostro tempo di lavoro all'interno di una foresta. E come immaginate un'idea di questo genere per essere trasmessa ha bisogno di un forte supporto metodologico e culturale. All'interno del manifesto abbiamo trovato quella possibilità di imparare ma anche di trasmettere quello su cui abbiamo lavorato per far crescere un sentire più ampio rispetto alle possibilità che la tecnica offre in un ambito come quello dell'architettura. Come potete vedere le partnership sono importanti, poliedriche, vengono da ambiti diversi e devo dire che dall'esperienza che abbiamo fatto tutti i partner condividono, chi per un aspetto, chi per altro, questo stesso sentimento di volersi confrontare. Il manifesto però oltre che essere un elemento di creazione di cultura è anche un progetto pratico perché poi alla fine le cose avvengono facendole e l'organizzazione di incontri, di workshop, di caffè della mattina, di eventi del pomeriggio e della sera, di workshop in cui ci si incontra all'interno degli studi più importanti o presso le aziende per imparare di fatto porta in quella che è la quotidianità della vita lavorativa quell'elemento che è di distrazione da una parte ma di concentrazione dall'altra perché permette di imparare cose che oggi noi siamo troppo abituati a vedere su internet ma che in realtà rimangono spersonalizzate. Invece questo elemento umano, questa possibilità di confrontarsi e poi conoscendosi di approfondire, devo dire che è un elemento di ricchezza attorno al quale noi ci troviamo molto bene. La presenza di una tecnologia come la nostra all'interno di una fiera dedicata alla fotografia e all'arte nasce dal fatto che noi riteniamo che l'arte sia il principale vettore dell'innovazione, lo è da sempre. Se voi ci pensate l'arte è stata nella nostra storia lo strumento con cui si sono descritte i fatti storici, i fatti religiosi ma anche le grandi conquiste. Se voi pensate che cosa sono gli archi dei romani oppure i grandi affreschi del rinascimento sono di fatto spaccati che portavano a conoscenza le cose che succedevano. Per noi l'unione tra la bellezza, cioè quindi l'aspetto estetico e la tecnologia è il modo più semplice con cui si riesce a raccontare quello che facciamo. E in particolare ci siamo approcciati a una forma d'arte che oggi è sempre più diffusa che è quella della street art, i murales. Oggi un murale che nasce come evoluzione dai tag degli anni 70 e degli anni 80 che volevano rappresentare un momento di trasferimento, magari anche di una condizione di disagio, comunque di un messaggio che non riusciva ad esprimersi nei canali tradizionali, oggi sono diventati anche aspetti di riqualificazione urbana. Noi veniamo impiegati tantissimo magari nel riportare a vita non luoghi, la classica facciata di testata cieca di alcune realizzazioni architettoniche che riprende vita perché diventa un disegno, magari diventa il luogo. Ci incontriamo dal Delfino dove prima invece era tu e questo devo dire che ci sta portando sia in ambito istituzionale, adesso vedremo un filmato che abbiamo realizzato per un progetto delle Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda 2030, ma sia anche in ambito industriale, spesso campagne pubblicitarie piuttosto che momenti di riqualificazione urbana trovano aziende che preferiscono sponsorizzare un'opera d'arte all'interno di un murales perché permettono anche a loro di rappresentare meglio quella che è l'attenzione nei confronti del più grande pubblico, non solo dei propri clienti ma degli stakeholder nella loro dimensione più ampia. Per cui vi farei vedere un breve filmato che abbiamo realizzato con una NGO molto importante sotto legida delle Nazioni Unite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due osservazioni. La cosa di cui siamo orgogliosi è che alla bellezza dell'opera, che è chiaramente nelle mani dell'artista, si aggiunge la caratteristica tecnica. Pensate che ogni sei metri quadrati di quello che abbiamo visto eliminano ogni giorno l'inquinamento di una macchina diesel, quindi di fatto io ho trasformato quello che era un luogo che inizialmente era perso in se stesso in qualcosa che è una alta riconoscibilità sociale ma che allo stesso tempo contribuisce a quello che è un elemento molto sentito che è quello della qualità dell'aria. la nostra tecnologia opera su due livelli, uno è quello della sostenibilità, ha il contenuto di anidride carbonica più basso esistente sul mercato. Quindi dipingere 10.000 metri quadrati con la nostra pittura piuttosto che con una pittura tradizionale porta a ridurre di 5 tonnellate l'immissione di CO2 nell'atmosfera. però parliamo di sostenibilità, di alterazione del clima. C'è un altro ambito che in ambito urbano è particolarmente sentito perché poi le amministrazioni chiudono il traffico, che è la riduzione degli ossidi di azoto che sono il principale killer della nostra era, sono la prima causa di malessere delle persone e che noi eliminiamo fino al 96%. Se noi mettessimo un'automobile all'interno della nostra lounge, dopo circa due ore tutto l'inquinamento dell'auto è eliminato dalla presenza della pittura sulle pareti. Quindi questo di fatto interviene in modo molto preciso, molto diretto su qualche cosa che vada a ferire la salute e il benessere delle persone. Arlight elimina virus e batteri. Il virus è testato anche sull'ormai famoso e speriamo di non trovare più Covid-19, ma essendo a specifico lavora su tutte le componenti biologiche. Per concludere, per noi questa è un'esperienza molto importante. L'azienda è nata nove anni fa, ha fatto i primi sei anni a scuola, per cui abbiamo sviluppato cinque brevetti, abbiamo raccolto più di 50 certificazioni perché per noi era importante che ciò che andassimo ad offrire fosse supportato da una solida base scientifica. Noi siamo contrari a tutte quelle forme di greenwashing o di faciloneria che spesso in un ambito come questo si vengono a trovare perché essere green oggi può essere qualsiasi cosa. Noi innanzitutto siamo blu, quindi già ci vogliamo differenziare perché per noi è un ambito quello del benessere ulteriore che si aggiunge a quello della sostenibilità e sul quale vogliamo fare una forte attività di sensibilizzazione. E dall'altra parte c'è un tema per noi molto importante che è quello di veicolare oltre al bene il bello utilizzando l'arte e quindi facendo comunicazione anche in contesti come questo dove per nutrire lo spirito cerchiamo di far star bene anche il nostro corpo. Vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, siamo a vostra disposizione in lounge per rilassarci insieme. Grazie. Grazie. E ancora grazie Alessia, Monica, alzatevi, fatevi vedere, grazie, grazie davvero. Grazie. Ci avete dato fiducia dall'inizio, quindi siamo noi che siamo molto fieri di avervi come partners. Ci siamo subito piaciuti. Ci siamo trovati. Ci siamo trovati. Era reciproco, noi avevamo bisogno tantissimo di loro e intorno a loro abbiamo costruito un progetto nel quale crediamo molto, per cui siamo davvero contenti di essere qui. No, no, l'ho detto, è proprio un inizio di un lungo percorso, davvero. Grazie. Grazie a tutti. Nella lounge vi offriamo un cocktail e vi presenteremo i progetti degli architetti di quest'anno che concorrono a un premio del pubblico, per cui le ragazze vi chiederanno la vostra preferenza, siate diligenti. Grazie. 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 Grazie.